Ciao a tutti ragazzi, qui è Archevi Parla. Sono qui con una discussione un pochino particolare che ho visto su Reddit, dove questo ragazzo stava dicendo che secondo lui i weapon kits che ci sono su Black Ops 4, anche quelli di Black Ops 3, dove è possibile personalizzare le nostre armi non soltanto dal punto di vista estetico, con mimetiche e molto altro anche su Black Ops 4, bensì anche dal punto di vista degli accessori, tutto quello che possiamo aggiungere a un'arma che sia un mirino, estrazione rapida, caricatori aumentati e tanto altro su Black Ops 4 come anche le mod operatori che possono rendere alcune armi veramente molto molto efficaci o comunque molto molto più potenti della versione base. Secondo lui questa cosa un pochino troppo forte andrebbe cambiata in modo da essere leggermente più equilibrata in modo che un'arma con magari tantissimi accessori possa costare di più al muro. E molte persone giustamente nei commenti hanno detto che non è proprio il sistema migliore, dato che una persona che ottiene molti accessori o comunque livella molto un'arma è perché l'ha utilizzata, ha fatto tante kill, tanti colpi alla testa, quindi è giusto che venga in qualche modo ricompensata dall'utilizzo continuo di quest'arma e dal poterla potenziare. Mi è venuto quindi in mente una piccola idea, non è che forse non è il gioco che sta diventando troppo facile, nonostante comunque ci siano moltissimi meccanismi in più, che siano le granate fortissime di Black Ops 4, le armi speciali e tanto altro, bensì che siano tutte le armi, specialmente anche quelle base comprabili al muro, che sono diventate molto molto forti. Ragioniamo un attimo, un fucile d'assalto che già di base è comunque un'arma abbastanza forte, anche spotenziata, con una double tap, un deadshot, possiamo aggiungerci un mirino per renderla più precisa, caricatore aumentato per avere più colpi e tanti altri accessori che possono renderla veramente un'arma letale, con addirittura il doppio delle munizioni e qualche accessorio che possa renderla molto molto più forte di quella che è la versione base, anche soltanto ricaricare più in fretta o avere più colpi nel caricatore è un grossissimo vantaggio, però ci sono alcune armi che ho anche ad esempio i cecchini o certi modi operatori per fucile a pompa e mitragliatrici, rendono le armi veramente letali e una volta potenziate al massimo aggiungendoci o una double tap nei capitoli precedenti o un deadshot, cartucera, magari anche a roccaforte tutti assieme su Black Ops 4, è chiaro che alcune armi molto basilari possono diventare estremamente forti. Passiamo anche soltanto alla Strife che è una pistola normalissima e con la baionetta può shootare fino al round 6, infacile fino a round 4 in normale che già è molto molto forte o addirittura il vapor con la baionetta anche quello uccide per molti molti round e addirittura se potenziato al massimo in easy può shootare fino al 29 un'arma corpo a corpo. Capiamo che nonostante la vita di Black Ops 4 sia leggermente diversa dal punto di vista degli zombie dato che c'è un limite anche molto molto basso, infatti moltissime armi possono uccidere anche round più alti e sappiamo benissimo che il lanciarazzi potenziato al massimo shot all'infinito e quello è un altro esempio appunto di come la vita di Black Ops 4 sia molto molto diversa perché pensare che un lanciarazzi potenziato come anche soltanto quello di Black Ops 3 che è molto molto più debole dell'elion salvo di Black Ops 4 possa uccidere anche un round superiore 30-40 fa veramente strano mentre appunto il lanciarazzi di Black Ops 4 shot all'infinito è anche circa una cinquantina di colpi quindi è chiaro che sia un'arma veramente formidabile aggiungiamoci appunto anche gli accessori con qualche caricatore in più, l'esplosione molto più grande, la ricarica più veloce e anche l'aggancio con la mira anche se non funziona su zombie proprio benissimo e abbiamo appunto una delle armi potenti del gioco se non più potenti di alcune Wonder Weapon e in mappe come Dead of the Night con la strategia dei proiettivi d'argento è chiaro che sia una delle cose più potenti in assoluto però anche soltanto su Black Ops 3 ricordiamo le munizioni alternative come alto forno, cavo inerte, trasformato e tante altre cose sono veramente molto molto potenti, abilità che si attivano continuamente alcune come cavo inerte possono essere letteralmente spammate di continuo e uccidono all'infinito se soltanto usiamo la strategia giusta e un'arma che possiamo coprare di colpi a muro con alto forno possiamo teoricamente andare avanti all'infinito, non è sicuramente la strategia migliore, la strategia più veloce, la più sicura però può funzionare, può essere efficace o comunque abbiamo visto che in tantissime strategie avere un trasformato, un alto forno, un cavo inerte risulta veramente molto molto comodo o accelera una strategia già di sé molto veloce e molto efficace pensiamo a quella di Shadow Weapon con Wonder Weapon o Spada ma in più un Vesper con alto forno, con cavo inerte o trasformato può essere molto molto utile o comunque darci una piccola mano quando magari stiamo finendo i colpi e non vogliamo sprecarli quando abbiamo soltanto qualche zombie quindi utilizzare un proiettile è forse esagerato e l'arma è proprio lì al muro che ci aspetta pensiamo anche soltanto utilizzare un insta kill nella strategia appunto di Waterfront di Shadow of Evil e con un Vesper che ha più di 300 colpi possiamo uccidere veramente tantissimi zombie e risparmiare i colpi delle Wonder Weapon per round futuri, round successivi o comunque per non sprecarli quando abbiamo qualcosa come l'uccisione istantanea quindi la personalizzazione è superflua e di troppo assolutamente no è giusto che come su Multigiocatore e anche Blackout di Black Ops 4 si possono personalizzare le armi e renderle più potenti senza che venga tolta nient'altro l'arma magari soltanto per dire raggiungendoci un silenziatore abbiamo un vantaggio e un leggero svantaggio però con un mirino, un caricatore aumentato, una estrazione rapida sono tutti oggetti aggiuntivi che rendono l'arma più efficace grazie al fatto di averla utilizzata per molto tempo, aver fatto livelli, aver fatto uccisioni stessa cosa deve funzionare su zombie non soltanto la parte estetica che possono essere appunto qualsiasi gingillo da attaccare all'arma che sia la mimetica, oro, diamante, dark matter o anche tutte quelle precedenti o anche quelle magari aggiuntive, mimetiche, reattive e tant'altro del mercato nero come anche soltanto le maestria MK2 quello ci può stare è una parte semplicemente di divertimento è una parte che anche l'Activision utilizza molto spesso per le microtransazioni e ci può stare ma dal punto di vista del gameplay di tante cose in cui abbiamo una progressione anche su zombie che siano i livelli, se a fare i round e tante altre meccaniche presenti da sempre su zombie su Blackhost 3 è un grosso passo avanti, oltre il sistema a livelli che ritengo qualcosa di spettacolare e per i più fissati come me è molto molto comodo anche per metterci davvero tante ore su zombie e avere qualcosa in più di concreto da fare e cui ogni volta spingerà avanti le migliori strategie fare i livelli in più metà possibile e sfruttare magari gli eventi di XP doppi ma anche appunto gli eventi di XP armadoppi che abbiamo in questi giorni col quad feed fino al 2 di gennaio è chiaro che livellare in fretta un'arma per ottenere i suoi accessori aggiuntivi anche soltanto nel modo operatore per fare delle sfide qualcosa di stupido così ha un certo senso e permette di utilizzare le armi nella loro maniera più potente in assoluto anche un'arma a muro che possiamo prendere come uno Shiva di Blackhost 3 un RK5 con qualche accessori in più non è soltanto un'arma che uccide per i primi 4-5 round ma è un po' più utilizzabile, può essere più comoda e più forte grazie alla nostra abilità e il tempo che ci abbiamo messo con quell'arma quindi non soltanto avere delle ricompense per divertimento o per bellezza dell'arma bensì anche qualcosa che possa essere utile al gameplay come progressione appunto quindi noi utilizziamo qualcosa, la possiamo potenziare e appunto in tutte le nostre partite questi potenziamenti tutto il tempo che abbiamo utilizzato con quell'arma ha il suo significato, ci dà la nostra ricompensa che è appunto un'arma più forte sicuramente questo porta dei vantaggi e degli svantaggi ben visto come su Blackhost 4 comunque le munizioni alternative siano state abbastanza nerfate non sono più onnipotenti come era ai livelli di Blackhost 3 che era davvero assurdo e appunto non sono così fondamentali non vedo mai delle strategie in cui utilizzare magari un trasformato o qualsiasi altra abilità alternativa sia così utile o così fondamentale mentre su Blackhost 3 appunto era molto molto importante e quindi il gioco è stato reso più bilanciato da questo punto di vista però è chiaro che comunque Blackhost 4 assieme a Blackhost 3 si è un capitoli veramente molto molto facili e dove non soltanto le Wonder Weapon come un tempo magari a Blackhost 1 o 2 fossero le uniche armi in grado di uccidere a parte qualche altra piccola cosa mentre da Blackhost 3 in poi ci sono tantissimi oggetti aggiuntivi che siano anche soltanto gli scudi lo scudo di Blackhost 4 principalmente quello che troviamo in quasi tutte le mappe è veramente molto molto forte aggiungiamoci anche testuggine però in più appunto su Blackhost 4 le granate l'arma speciale che si ricarica veramente in fretta ce l'abbiamo fin da subito nel creare una classe alcune lisiere che comunque ci rendono più potenti e tante altre cose come anche soltanto le armi come ho detto prima il lancio a razzi ma in generale dato che la vita si blocca se non sbaglio intorno a round 35-36 o un periodo più avanti specialmente in easy è molto facile poter uccidere praticamente all'infinito se non sbaglio il DMR con tutti gli accessori per i colpi alla testa aggiuntivi utilizzando Deadshot e Roccaforte può shootare in testa all'infinito anche a round 70-80 con un colpo ben piazzato possiamo shootare gli zombie il che è veramente incredibile ma anche se soltanto in normal già il lancio a razzi è molto forte e qualche altra arma se spariamo veramente tanti colpi può uccidere uno zombie al contrario di come era il divertimento magari alla Black Ops 1 che a round 100 si prendeva l'ultimo zombie lo succideva magari di Reagan, di lancio a razzi, di RPK ci volevano caricatori su caricatori armi su armi anche soltanto per zopparlo e poi ucciderlo quindi o vai di trappole o vai di Zeus o non lo ucciderai assolutamente mai voglio invece sapere ragazzi le vostre opinioni se appunto le armi sono diventate molto forti forse troppo forti il passo in avanti estremo fu appunto Black Ops 3 dove munizioni alternative come alto forno cavo inerte o anche le più banali come rombo di tuono e i fuochi d'artificio fossero veramente molto forti e potessero uccidere anche gruppi abbastanza consistenti di zombie mentre su Black Ops 4 ha fatto un passo indietro da quel punto di vista ci hanno aggiunto però moltissime altre meccaniche che rendono tutto veramente facile e come dico sempre rispetto magari a un Black Ops 1 o un Black Ops 2 è molto facile comunque ci sono tantissimi metodi per poter scappare da una massa di zombie anche soltanto tirare fuori l'arma speciale uccide tutti gli zombie nei nostri dintorni poi vanno a respawnare però ovviamente il problema a quel punto è risolto lo scudo con testugine ultimo desiderio le granate così forti tante Wonder Weapon che comunque possono attirare via gli zombie o ucciderli mentre magari su un Black Ops 1 o 2 alcune Wonder Weapon potevano fallire o non erano così efficaci quando siamo completamente circondati da una massa di zombie ad esempio anche soltanto su un Black Ops 1 o 2 non c'è lo scudo in tutte le mappe che invece è diventato praticamente obbligatorio e fondamentale in tutte le mappe di Black Ops 4 e in molte mappe di Black Ops 3 dove è veramente molto comodo però ricordiamo che su Black Ops 4 con testugine si può andare in giro con lo scudo in mano e per quanto ce lo possono distruggere abbastanza in fretta almeno una massa molto grossa di zombie abbiamo quel secondo 2 di tempo per pensare a cosa fare utilizzare anche soltanto un Elisir l'arma speciale appunto la Wonder Weapon mentre su un Black Ops 1 o 2 o anche soltanto il 3 o addirittura indietro fino a World at War siamo per forza morti fatemi sapere come al solito le vostre opinioni nei commenti spero come sempre che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo un abbraccio ala